Il Lube è fortemente voluto dalla Lube, un bel salto di qualità per la tua carriera Ivan? Sì, assolutamente, ho passato degli anni particolari da quando ho cambiato ruolo, sono stato a Roma, sono cresciuto a Roma grazie comunque alla squadra di Roma che mi ha fatto giocare sempre e costantemente senza mai farmi uscire dal campo e questo è il mio primo spostamento importante che coinvolge non solo l'aspetto pallavolistico ma coinvolge anche soprattutto l'aspetto personale cambio città, cambio realtà, arrivo a Macerata dove si vive di pallavolo e si respira pallavolo anche soltanto andando a bere un caffè al bar la mattina e quindi per me è il massimo Anche una realtà vincente Sì, soprattutto, soprattutto, giocare sul tricolore il prossimo anno sarà una bellissima cosa, non sento tanta responsabilità addosso ora, magari la sentirò un po' più avanti, quello sicuramente però la cosa non mi spaventa e anzi vorrei dare una bella mano se riesco alla Lube per, non lo dico, ma per rivincere qualcosa Noi siamo certi di aver preso il più forte giocatore che il mercato potesse offrire Chiaramente noi abbiamo vinto lo scudetto ma siamo ben consapevoli che il divario con Trento esisterà e c'è ancora Trento è un'ottima squadra, noi abbiamo cercato con l'innesto di E9, di Zaic, di avvicinarci ancora più, di fare quei centimetri che ci avvicinassero anche sulla regular season a una competizione più certa e convidiamo veramente di fare un campionato, non solo dei play-off, ma un campionato all'altezza della nostra squadra